carissime amiche carissimi amici buongiorno dal vostro caro giocherellone il vostro caro giocherellone che come al solito come ogni giorno vi porta video spettacolari oggi per la rubrica del risparmio del giocherellone voi sapete da una parte io adoro i supermercati fin da quando ero piccolo pensate un pochettino da un'altra parte mi piace essere molto indipendente molto autonomo anche nel fare la spesa ma soprattutto mi piace risparmiare non amo gli sprechi non è che sia a braccino corto mi devo godere la vita me la godo cercando sempre di fare una vita salutare ma soprattutto mi adoro anche molto risparmiare non mi piace buttare soldi per questo ho voluto creare come voi sapete ho avuto anche un ottimo successo e ringrazio veramente tutti per i commenti positivi che ogni giorno sul mio canale di twitch di youtube mi tendete a portare mi tendete ovviamente a dimostrare vi ringrazio veramente tantissimo ho voluto creare la rubrica del risparmio nella rubrica del risparmio c'è anche ovviamente il l'acquistare i prodotti al supermercato perché ovviamente la spesa gli alimenti sono una cosa che ovviamente noi tutti andiamo ovviamente a fare a esplicitare quindi che cosa che cosa ovviamente adesso il vostro caro giocherellone vi porterà vi porterà a vedere vi porterà ovviamente a a mostrare ovviamente i mitici i mitici sconti dell'iperal perché questo è l'iperal perché l'iperal è praticamente il supermercato dove quasi sempre il vostro amico giocherellone tende ad andare vediamo un pochettino quindi di farvi vedere di farvi vedere queste incredibili incredibili carnazzone buongiorno nasi buongiorno te caro carnazzone e con te proprio penso un pochettino voglio vedere voglio vedere cosa acquistare in queste giornate in queste giornate quindi mettiamo il volantino qui a schermo e vediamo quelle che sono le principali offerte ragazzi quindi salutate tutti quanti vostro caro marco carnevale grande marco carnevale grande amico veramente ormai sta diventando per me quasi un fratello pensate un pochettino quindi veramente sempre presente andate anche sul canale ragazzi di marco carnevale a carnazzone perché ne vale la pena vi potete divertire con una persona di cultura una persona molto educata devo dire la verità una persona che sa sempre stare in società andiamo a vedere caro marchetto ovviamente quelle che sono ovviamente queste offerte praticamente allora tu sai che io adoro fare la pizza adoro fare la pizza e quindi quasi sicuramente andrò a comprare questa passata di pomodoro della mutti è un'ottima passata devo dire la verità è un'ottima passata quindi credo proprio che credo proprio che la comprerò il prezzo è abbastanza buono in generale a mutti costa un pochettino di più un euro e 36 in merito ovviamente anche a quello che il il nostro caro caffè e il nostro caro caffè ovviamente ovviamente devo dirti la verità devo dirti la verità io in genere faccio sempre scorte di caffè e c'è quest'ottimo caffè chimbo in offerta devo dirti la verità e che credo anche andrò a prendere come puoi vedere molto molto buono e il massimo c'è una confezione praticamente fatta da due pezzi il biondino ragazzi è arrivato il biondicello ecco qua quante passate prendi allora io in genere io in genere caro marco io prendo il per una questione di comodità visto che poi non costano tanto prendo direttamente la cassetta con tutte le passate in modo tale che la metto metti conto in cucina oppure in una parte la cucina perché una cucina abbastanza grande come puoi vedere addirittura tengo anche il tavolino qui per trasmettere quindi in realtà la casa del giocherellone diciamo è molto tecnologica pensa che ho le luci o le luci che si accendono vocalmente tramite alexa e in più ho praticamente un computer in ogni stanza quindi camera da letto soggiorno e cucina c'è un computer in ogni stanza legato anche alla possibilità di streamare quindi veramente altamente tecnologico infatti diciamo che adesso cambierò addirittura il computer nella camera da letto prendendo un computer con una rtx 40 70 ti che è una bomba che costa 940 euro 150 euro solamente la scheda grafica mi ricorda per me siete mancati a ieri purtroppo ho avuto un pochettino da fare a punto di vista lavorativo come potuto vedere e quindi e quindi non ho potuto streamare c'è un mircobabella carnazzone gli piace gli piace mircobabella gli piace anche il gioco di ritorno gli piace anche il gioco di alessandrino arcangeli che ogni mattina esce quindi ragazzi credo che farò comunque scorte di caffè ecco qua perché il prezzo è molto buono 5 e 38 poi stiamo parlando della kimbo ovviamente il caffè di napoli il caffè di napoli in realtà la kimbo compra praticamente selezione ai grani e poi li va a tostare nello stabili mei negli stabilimenti che tiene praticamente primis in campania e poi ovviamente li va a impacchettare è un ottimo ottimo vedete infatti ma loro lo dicono ecco quel talento napoletano della tostatura marco carnevale mircobella 940 euro tutti i soldi della mia pubblicità è mircobabella purtroppo purtroppo il quiz magari magari caro mircobella di riuscisse a prendere uno 140 euro da twitch da youtube ecco qua purtroppo e social network se stai sotto la soglia dei 100 mila iscritti non pigli pigli veramente i centesimi ecco qua è un utile che ci giriamo intorno quindi un giorno forse giocherellone se dovessi riuscire a prendere qualcosa dal punto di vista dei social network sicuramente vi farà vedere gli altri progetti che ha legato ovviamente social network ci sarà veramente qualcosa di molto 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 importante non vi preoccupate non vi lascio soli e condividerò con me l'eventuale successo che avrà il carnazio dice a proposito da mircobabella c'è più pubblicità che qui dal giocherellone perché mircobabella iniziata a mettere pubblicità ad essere sinistra secondo me però è un atteggiamento sbagliato secondo me il fatto di inserire così tante pubblicità perché li fai scappare ecco qua sempre se li vuoi attirare giustamente la problematica che il fatto di mircobabella che ragiona un po la giocherellona ovviamente che fa fa lo streaming ovviamente mettere pubblicità ci mancherebbe e poi dopo fa l'esportazione sul suo canale youtube sul suo canale sul suo canale youtube come archivio quindi tendenzialmente cerca di crescere a destra e sinistra però una cosa importante che secondo me mio parere personale è quello la che noi dobbiamo fare squadra ci dobbiamo fare squadra cercando da una parte di pubblicizzarci da tutte e due c'è tutti quanti tra di noi in modo tale da creare un vero e proprio network e quindi io questo questo il mio parere personale quindi in merito ovviamente all'intensità all'813 quindi sicuramente queste ottime offerte le andrò praticamente a prendere vedete ragazzi 50 per cento di sconto rispetto al prezzo di vestire in una passata mutti sono 1,36 e poi il caffè chimbo che abbiamo a 2,69 praticamente 5,38 al chilo quindi questo è un'ottima offerta questo è un'ottima offerta ho ancora delle passate per fare la pizza a casa a volte l'utilizzo anche per fare praticamente la pasta col sugo e non amo tanto la polpa devo dire la verità andiamo ovviamente avanti andiamo a vedere le altre offerte praticamente allora abbiamo questo questo sacchettino praticamente le miele a casa giocherellone non devono mancare mai perché sono in uno dei frutti praticamente migliori uno dei frutti praticamente migliori del del della vita praticamente per l'alimentazione ovviamente umana quindi sicuramente sicuramente prenderò sicuramente prenderò queste mele gala che sono ottime ed eventualmente queste mele golden delisius vedete le banane le banane non sono in offerta quindi prenderò mele 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 nel mio canale si è pubblicizzato ogni di ma lo so ma anche tu sei pubblicizzato ogni di ma quella questione di amicizia non perché mi devo ovviamente dobbiamo fare il network il network è per una questione diciamo si può dire commerciale ecco qua però ovviamente a noi quello che ci unisce è l'amicizia questa bellissima amicizia questa voglia di scherzare di ridere questa voglia praticamente di stare insieme senza stare in contatto forse un giorno però staremo anche in contatto in un giorno che ci giriamo intorno perché i miei progetti sono su larga scala quindi vedrai ovviamente prendi una verza allora per la verza per la verza in realtà questo a breve sarà tempo di pizzoccheri che sono un piatto non tanto economico però molto molto ricco almeno non tanto economico come la facelli facciamo io la giocherelluna perché ci mettiamo tantissimo casera che un formaggio tipico valtellinese idonio proprio per fare i pizzoccheri e poi ci mettiamo tanto parmigiano reggiano buona la verza sì soprattutto la verza poi è bella perché quando la vai a cuocere praticamente insieme al formaggio si fonde praticamente poi tu sai come si fanno i pizzoccheri praticamente patate verze poi si buttano i pizzoccheri o a volte faccio i pizzoccheri stesso io quindi sono quelli freschi che cuociono molto più velocemente rispetto a quelli la secchi e poi dopo ovviamente casera laglio fuso dentro al burro e parmigiano reggiano col pepe una bomba praticamente c'è dopo proprio non puoi muoverti però per esempio in questi luoghi che un tempo erano molto molto freddo per luoghi della dell'alta lombardia un piatto del genere lo smaltivi subito o era un carico era un carico praticamente alimentare così completo c'erano le fibre c'erano tutte le proteine dei formaggi c'erano ovviamente i carboidrati della pasta c'erano i grassi legati al burro c'era l'aglio per esempio c'era il pepe quindi aglio e pepe che comunque ti fortificavano c'era la salvia che una che è una pianta molto aromatica ma anche con ottime grandi proprietà quindi era una bomba alimentare tu con un piatto di pizzoccheri stavi a posto diciamo mezza giornata ecco qua qui calcola che soprattutto nei periodi invernali c'era meno molta pastorizia oggi non c'è più è molto difficile che tu possa trovare qualcuno che abbia le mucche qui sono veramente pochi si contano sulle dita di una mano praticamente quindi ovviamente anche qui in valtellina è cambiato sono cambiate tantissime cose se è meglio li sai fare certo che li so fare ci mancherebbe la giocherina noi siamo maestri dei pizzoccheri li facciamo la pasta le tagliatelle a pizzoccheri li facciamo stesso noi sappiamo fare anche i pizzoccheri della val chiavenna che sono quelli là degli gnocchetti chiavennaschi che si fanno praticamente a cucchiaio quindi si fa questa cucchiaiata praticamente farina bianca e acqua si buttano praticamente si buttano nell'acqua bollente escono questi gnocchettini fatti al cucchiaio ecco qua pensa un pochettino quindi quelli sono i pizzoccheri bianchi della val chiavenna in valtellina ci sono invece i pizzoccheri fatti col grano saraceno e sono originariamente legati alla comune di teglio ecco qua hanno effetti psicotropi che non si contrastano neanche col 5 caffè allora è una bomba alimentare sicuramente però grazie per esempio alle fibre riesci sicuramente a evitare quel blocco intestinale è legato sicuramente diciamo alla presenza del carboidrato della pasta praticamente e del formaggio il formaggio ovviamente tu sai è una bomba si diventa proprio una colla pensa che un pochettino quando vai praticamente a pulire la pentola la pentola dal residuo del formaggio usato per i pizzoccheri quindi casera e parmigiano reggiano è difficilissimo da togliere anche con l'acqua bollente quindi infatti io praticamente la pentola la vado a pulire praticamente una volta che è spazzato via tutto perché i pizzoccheri raramente rimangono anche riscaldati anche il giorno dopo li mangio e sono fantastici sono fenomenali dopo per pulire acqua bollente sapone a tutta forza diventa una colla quindi immagina che cosa succede dentro al tuo intestino va bene ragazzi quindi vediamo un pochettino abbiamo anche queste arachidi iper all'ottimo prezzo 4 ore e 60 voi sapete che con le arachidi si fa anche il burro d'arachidi se non lo volete comprare lo potete fare direttamente voi certo dovete sbucciare tutte le noccioline a questo punto consiglio di comprare le arachidi sbucciate se volete una frutta secca da mangiare casomai dopo passo così in maniera spiziosa le arachidi tostate sono fantastiche che sono praticamente tostate queste noccioline non salate poi le mangiate così sono saporitissime bene consiglio ricchissime di proteine vegetali le arachidi nonché di grassi ma anche foro soprattutto di proteine vegetali infatti vi ripeto venivano chiamate dagli americani la carne vegetale dice marco carneval dice anche freddi li mangio tutti incollati sono buoni lo stesso io sai che faccio li preghi o freddi a volte quando rimangono li metto praticamente all'interno del forno a microonde si scioglie tutto in pochi minuti e li mangi fantastici veramente meravigliosi un piatto che io ho scoperto qui in Valtellina quando facevo il pendolare Napoli-Valtellina scendevo a Napoli a volte mi compravo i pizzoccheri quelli là secchi all'Iperal li portavo praticamente a Napoli e li facevo a Napoli quindi penso un pochettino i finocchi ragazzi i finocchi i finocchi sono un ottimo un ottimo vegetale molto molto diuretico quindi se dovete perdere peso soprattutto legato a una ritenzione idrica per esempio se mangiate con molto sale il finocchio è fantastico oltretutto se lo associate anche per esempio alla cipolla pulisce perfettamente le vie urinarie quindi per esempio i finocchi a volte io per esempio la mattina quando se ho mangiato un po' troppo la sera ecco qua che faccio prendo praticamente mezzo finocchio e lo mangio praticamente così non questi gambetti verdi vedete qui sopra questi gambetti verdi potete mangiare praticamente queste specie di erbettina che si crea praticamente sopra i gambetti verdi in realtà li vado a buttare oppure li utilizzo come concime nel terreno mentre tutta questa parte qua bianca è fantastica ricchissima di acqua ma ricchissimissima di fibre con un forte effetto diuretico quindi ottimo per perdere peso legato ovviamente soprattutto alla ritenzione idrica purtroppo molti di noi soprattutto se fanno poco movimento bevono tanto e mangiano contro molto sale tendono a avere un sovrappeso legato non al grasso ma alla ritenzione idrica buonissimi sanno di liquidizia bravissimo infatti questi io per esempio li mangio o col caffè oppure così li schierano occhio così ti riempiono e allo stesso tempo ovviamente ti fanno sia andare in bagno per la presenza delle fibre sia ovviamente fare tanto ovviamente urina al fine ovviamente di perdere peso usi anche feci umane per concimare no le feci umane no però una volta mi ricordo caro Mirko Pappella che successe che avevo praticamente preso una cosa fortemente irritante unito a una grande alimentazione forse a base non mi ricordo di che cosa mi venne praticamente una bomba di urano e ovviamente non avevo purtroppo il bagno ero occupato proprio dalla giocherelluna e dovete andare in campo feci un pochettino come Silvio Berlusconi no disse io scendo in campo scendo in campo la frase in realtà scendo in campo era legata anche al fatto che nel passato quando non c'era il bagno in casa e qui se venite in Valtellina ci sono ancora tante case rurali che non hanno il bagno in casa uno scendeva in casa praticamente scendeva nel campo e quindi diceva scendo in campo vi diceva vicino alle persone dove vai caro dove vai stamattina scendo un attimo in campo prova finocchia arancia con sale olio e pepe lo devo provare Mirko Pappella topo topo grande Mirko Pappella è il finocchione c'è ancora l'uva ormai ovviamente siamo in un periodo autunnale tempo di uva l'uva mezzo chilo 1 euro e 95 l'uva ovviamente il prezzo è più o meno di 4 euro al chilo purtroppo è diciamo molto 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 elevato rispetto sicuramente alle mele quindi tendenzialmente preferisco pigliare le mele però l'uva vicino all'uva vedete Mirko Pappella anche te sviluppi i campi sviluppo i campi sì ma mi ricordo mi ricordo che feci praticamente una bomba liquida di urano enorme praticamente infatti avevo paura che arrivasse un animale da dietro il problema che poi l'animale avrebbe avuto una pioggia praticamente marrone un'infangata marrone a volo ecco qua vabbè non me la posso mai dimenticare quella giornata perché la giocherina stava in bagno si stava preparando dovevamo andare tutti e due a lavorare praticamente fai presto fai presto vabbè in mente mia fai presto ovviamente non ce la faccio più me ne andai me ne scappai praticamente nel campo e andai praticamente lì casa dove è nata mia nonna è il bagno fuori casa è stato aggiunto dopo sì ma tantissime case sono fatte così ecco qua anche per i problemi legati a volte all'impianto idraulico una da una parte perché forse non c'era lo spazio ma anche per problemi igienici perché purtroppo se non si faceva il sifone sotto quindi bisognava o rialzare praticamente il pavimento fare il pavimento più spesso che cosa succedeva che salivano sopra gli odori ecco qua e quindi c'erano gli odori nauseabondi che andavano per tutta la casa quindi spesso infatti si fa il bagno il bagno su un piano un pochettino rialzato ecco qua quindi si fa deve devi fare praticamente una parte sifonata in modo tale che l'acqua che ristagna nella parte sottostante del sifone ovviamente evita agli odori di risalire ecco qua quante ne sai a punto di vista idraulico il mio lavoro è fare l'architetto quindi è normale che queste cose le conosco le conosco infatti mi ricordo che avevo un ex collega ingegnere che purtroppo aveva fatto poco secondo me di ingegnere diceva ma come mai c'è questa puzza come mai ovviamente non c'era la parte sifonata lui aveva diciamo avuto poca pratica di progettazione e tendenzialmente forse anche di vita e quindi giustamente non conosceva queste cose se il nostro architetto il nostro architetto architetto locale ecco qua la zucca e tempo di zucca pensate un pochettino ecco qua il sifonottone il sifonotto gli ha fatto il sifonotto nella macchinotta allora la zucca delicata questa zucca la zucca grandissime proprietà praticamente molto simile alla carota io a volte sapete che faccio la mangio cruda però ovviamente se voi non diciamo non amate praticamente mangiare la zucca cruda la potete leggermente fare al vapore o bollita la mettete nella pasta e viene qualcosa di fantastico oltretutto i semi li potete far essiccare e avete praticamente i semi di zucca che sono hanno praticamente il tocofenolo una cosa una sostanza del genere adesso non ricordo di preciso che aumenta tantissimo il il testosterone ed evita praticamente i problemi legati alla prostata quindi altro che viagra la devo dire da zucca top mi ricordo per la digerio e la mangio cruda anche io la mangio è troppo dolce troppo dolce questa acqua delicata oltretutto adesso vi faccio vedere ovviamente anche il tempo il tempo dei mettici lo zenzero è anche lo zenzero anche ottimo devo dire la verità oppure sai che si può fare una zucca con la cannella quindi una zucchero con la cannella che è molto molto saporito pure la mela con la cannella quindi prendete queste mele le andate per esempio a bollire o a fare al vapore e le fate con la cannella ed è veramente fantastico grandi proprietà nutritive oltretutto siamo anche in un tempo di melagrani ecco qua di melagrani e quindi ovviamente nello io nel soffritto uso lo zenzero fa bene mi ricordo che la metti lo zenzero da tutte le parti che vuoi non in quelle che stai pensando adesso abbiamo anche la melagrana la melagrana ovviamente tiene i semi all'interno è una diciamo un frutto molto molto particolare con la maggior parte dei frutti che sono questi semi sono praticamente avvolti da una specie di pellicola al cui interno c'è questo succo pieno di vitamine infatti la melagrana era un tempo anche un frutto legato alla prosperità alla fortuna pensate un pochettino dei melagrani però voi sapete che avete una problematica di problematica sono proprio questi semi quindi se avete i diverticoli che sono dei buchi che nel tempo si possono formare nell'intestino non mangiate la melagrana però che cosa potete fare la potete praticamente frullare o potete fare tramite l'estrazione gli estrattori potete estrarre il succo di melagrana che è pieno di minerali e vitamine ed è fantastico e aumenta tantissimo il testosterone questo ve lo consiglio oppure la potete schiacciare alla vecchia maniera cachi vado matto se li frulli con la strega godi fai cachi io sai che cosa faccio li mangio praticamente i cachi li mangio praticamente quando sono molto molto maturi ecco qua mi piace quel caco che non sia troppo mollo ma non sia nemmeno troppo duro o potete mangiar via o potete mangiarvela dal mirco non dire queste cose davanti al pizzoccherino infatti vedi i pizzoccheri quanto costano praticamente diciamo a letto quindi sono 8 euro e 50 al chilo io ovviamente non li faccio così li faccio iper carichi di 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 formaggio in realtà la ve il vero pizzocchero non è abbonda tanto tanto di formaggio ecco qua perché appunto altrimenti è tutto formaggio però a me a noi piace farli così e sono distruttivi poi ci sono anche queste crespelle alla zucca che potete comprare da loro oppure ve le fate praticamente a casa e mo mirco e mio mirco 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 caldarroste qua fatte non mi interessa torte alle castagne qui viene praticamente 12 euro e 90 al chilo questo è buonissima e devo dire la verità devo dire la verità quando l'iper alfa praticamente questo tipo di offerte se io io ho il forno a casa però essendo in due non è che mangiamo chissà quante 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 cose devo dirti la verità a volte se vogliamo festeggiare e le metti con una torta del genere 5 euro devo dirti la verità piuttosto che comprare la torta di mezzo chilo quello là della prima che ottimo devo dire da tre euro a quattro euro che c'è il prezzo che sta ma piglia una bella torta di castagne e qui devo dirti l'avere una bella torta pretende 5 6 euro fatta praticamente bella fresca fatta con ingredienti genuini perché loro hanno il laboratorio ad andalo valtellino quindi hanno proprio un enorme laboratorio artigianale che distribuisce poi per tutti gli ipermercati dell'ipera e quindi praticamente molte volte vediamo le torte da loro dice il caranzone finalmente il castagnone finalmente le castagne in realtà noi abitiamo voi sapete i giocheri non ne abitano vicino a un bosco ormai tramite gli short tramite il video avete visto dove siamo e ovviamente molte volte le castagne le facciamo stesso diciamo le andiamo a fare dentro al bosco quindi le castagne non le compriamo ovviamente diciamo non tutti hanno quella comodità poi calcolate che l'iperal e soprattutto il fuentes è proprio meta di turisti quindi è normale che il turista che si viene anche qui a fare la vacanza che abbia la casa di proprietà o vede a casa di qualcuno che cosa va a fare si prende le castagne non le vanno a raccogliere si compra la padella per le castagne vedete 3,45 e ha risolto il problema ma certo abbiamo la posizione precisa e vieni vienimi a trovare ma presto caro caro carnazzone penso un pochettino caro marco carnevale presto ci saranno delle novità incredibili delle novità fisiche dal vivo quindi non solo i raduni ma partirà il club del giocherellone quindi pensa un pochettino il club del giocherellone dove con la tessera potrai venire in un enorme non ti posso dire niente trovo e solo sapere vabbè te lo dico in un enorme praticamente locale dove ci saranno attività artistiche attività videoludiche attività di streaming di tutto e di più quindi veramente ci sarà qualcosa di eccezionale sì 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 ma vieni anche tu poi poi una volta che l'ho fatto partire non ci vieni però fai una brutta figura Mirko Bella c'è Paolina e verrà forse anche Paolina ma scrivile scrivi non perdere tempo ecco qua scrivile non dico che Paolina aspetta a te però ovviamente scrivile qui c'è una zucca butternut praticamente questa zucca praticamente molto simile a una nocciolina e Milo penso che verrà sempre che Paolina sta sempre col Milo sta sempre con il suo canno attività zuzzosile no 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 anzi non sia mai sarà proprio per avvicinare i ragazzi al videogioco e alle attività artistiche quindi penso un pochettino vedete ragazzi ci sta anche vedete queste diciamo queste crostate fatte da loro molto molto buone devo dire la verità oppure queste vedete queste castagne praticamente cotte e pelate che sono molto buone devo dire la verità se le volete pigliare così tipo merendina non è male ovviamente il prezzo sale quindi se prendo Paolina prendo anche Milo se prendi Paolina prendi anche Milo ma prendi anche il giocherellone questo è fatto ecco qua e poi salame dolce ipera che in realtà lo potete fare da voi però ovviamente se volete praticamente mangiarlo così velocemente ci sono queste cose fatte direttamente da loro andiamo a vedere la carne ragazzi la carne che ha la sua per chi ovviamente importanza come Mirko Papella che mangia continuamente la carne fettine scelte di bovino adulto in realtà il prezzo è molto molto buono 12 euro e 50 al chilo però voi sapete che i giocherelloni non mangiano tanta carne quindi il prezzo veramente molto buono anche questa polpa scelta e bovino adulto è molto buona un cotechino vaniglia io in realtà non mangio i cotechini devo dire la verità è un al massimo nel periodo ovviamente natalizio di capodanno quindi ovviamente molto è un salume alla fin fine molto molto un insaccato molto molto grasso estremamente grasso per quanto sia saporito voi sapete il sapore della carne è data dal grasso ecco qua però ovviamente non le andiamo a pigliare queste alette di pollo a rosso Durango già fatte dell'aia preferisco farmele da me ottimo 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 prezzo questi hamburger di scottuna li potete fare praticamente con un panino prendete un pane un pane Mirko Papella dice non mangio carne da 12 anni caro giocherino lo sai lo so lo so lo so non mangio carne da 12 anni però a volte l'hamburger col gorgonzola te lo fai ecco qua ho iniziato ora a mangiare un pochino di salmone dopo 12 anni e vabbè dal salmone si passa alla scottuna velocemente io noi a volte sai come ne facciamo prendiamo praticamente l'hamburger ci mettiamo sopra il gorgonzola che si scioglie praticamente con il calore dell'hamburger appena fatto ecco qua ma perché 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 la carne è cancerogena praticamente non la carne ma è la carne ma è vabbè però allora diciamo a Marco Carnevale come deve ovviamente mangiare ma una volta ogni sei mesi un pezzo di salmone una volta ogni sei mesi e poi dopo arriviamo al salmone quindi come potete fare questi hamburger li potete fare o diciamo li andate a cuocere ma insomma è su un grill come lo teniamo noi andatevi a vedere sul canale youtube del giocherellone il roventa cercate roventa e guardate noi come facciamo gli hamburger vengono cotti perfettamente dice Mirko Papella e vabbò dice che è Marco Carnevale dice Mirko Papella non voglio roba in putrefazione nel mio corpo ma in realtà tutta la roba va in putrefazione nel tuo corpo anche i vegetali poi si lamenta del caffè e vabbè ma purtroppo si attacca sempre quello che è contro Mirko Papella dice roventa per chi non si accontenta e là però ci accontentiamo perché è fatto bene è una doppia piastra qua a doppia serpentina comandatelo elettronicamente penso pochettino ma che discorsi no ma mia carnazione è così è così vegetale direi che è un po' impossibile ma no in realtà tutto va in putrefazione se tu mangi vegetali che sono in putrefazione comunque tenderai a mettere un elemento cancerogeno nel tuo corpo ed è per questo che effettivamente ogni elemento nero bruciato è cancerogeno su questo Marco Carnevale Marco Carnevale ha ragione a dire il caffè è cancerogeno il caffè secondo me è cancerogeno per l'organizzazione mondiale della sanità che cosa andò a fare praticamente andò praticamente a dire no non ci sono prove certe ma in realtà tutto quello che è nero bruciato e tostato è cancerogeno anche per esempio quando mangiate la pizza avete visto che io a volte quando faccio la pizza che cosa vado a fare vado praticamente vado a fare la pizza a volte escono delle parti bruciate visto che la faccio da me e quindi posso permettermi anche di buttare essendo il costo molto basso io non mangio le parti bruciate per esempio la pizza a me sotto non è bruciata molte volte quante volte siete andati nei ristoranti e avete o nelle pizzerie vi siete portati a caso addirittura avete mangiato lì una pizza sotto bruciata quando la pizza sotto è bruciata e calgerogena tutta quella parte è bruciata quindi o cambiate pizzeria o dite al pizzaiolo pulisci un po il forno perché non puoi vendermi una pizza bruciata sotto allora io sopra posso staccare i pezzi ma non posso staccare il pezzo di sotto che è attaccato perennemente alla parte di sotto se vi faccio vedere adesso le pizze che ho fatto ieri non sono bruciate sotto perché questo perché non si pulisce il forno se si pulisse il forno ecco qua almeno una volta al giorno o a volte anche due volte al giorno se fai pizza mattina e sera non sarebbe bruciato sotto voi mangiate le parti conce logica quindi alzate la pizza che comprate perché lo so che la maggior parte voi la va a comprare e andate a vedere una cosa molto molto importante se è bruciata sotto il coppia la dice comandata tramite comandi twitch in realtà è comandata tramite un display ma vattelo a vedere il filmato perché ho spiegato il funzionamento poi l'abbiamo usato più volte dove tu mi metti praticamente i comandi e ovviamente ovviamente va la vai a utilizzare in base praticamente che cosa va a fare va a regolare la temperatura secondo dei programmi preimpostati questo è tutto non mangio cose con le parti nere fai bene ce la fai vedere vai a vedere sopra al canale praticamente di youtube altrimenti dovrei spostare la videocamera perché sta là vorrei vedere la tua bravura la mia bravura puoi vedere quando faccio gli hamburger se può fare io compro quella dell'euro spin che faccio al forno ecco qua e fai bene come le sposta tutto no mi come bene adesso devo staccare la videocamera attaccarla è vero che tengo la prolunga per la videocamera per fare le ricette però adesso voglio farti vedere questa cosa qua ti faccio la prossima volta che cucino ti faccio la live mentre cucino ma che allora ci fai vedere o maruzillo maruzillo e te lo faccio vedere tra poco ecco qua e dice carnazzone io la prendo da alessandrino che la smercia e fa bene questi hamburger qua di scottone il prezzo è ottimo 10 euro al chilo veramente veramente fantastici veramente veramente buoni devo dire la verità io a volte noi li facciamo quelle rare volte ogni settimana ogni volta ogni due settimane più di ogni due settimana con il gorgonzola sopra e basta oppure prendete un buon pane arabo o un panino per hamburger prendete lattuga pomodoro cipolla ketchup maionese formaggio zola quindi il gorgonzola e mettete tutto impilato tra di loro ed è qualcosa di fantastico in realtà la maionese potreste anche non metterla però se volete mettere anche la maionese la maionese mettete anche la maionese quindi dovete fare parte sottostante praticamente di pane lattuga poi mettete praticamente il forma una parte di zola oppure ketchup e maionese poi mettete l'hamburger sopra poi mettete praticamente sull'hamburger per esempio lo zola il gorgonzola poi mettete una foglia praticamente mettete la cipolla e il pomodoro con una foglia praticamente un'altra foglia di lattuga l'altra parte superiore del panino super panino mangiate e diventate enormi ragazzi mirko bella allora ci vedevo maruzzi e leggeri e mi ritorno uno mi ha chiesto di chi ha alessandrino arcani è un caro amico se realmente esiste esiste ma non partecipa poi ci sono praticamente questi ricci di petti di pollo martini mai assaggiati devo dire la verità le code di mazzancolle tropicale non è male il prezzo devo dire la verità per quello che ovviamente costano e il branzino che assomiglia a mirko papela la mattina quando si alza vedete si mette praticamente così il prezzo comunque è molto molto buono eccolo qua ragazzi il salmone selvaggio praticamente questo è veramente buono come prezzo il prezzo comunque sui 40 euro al chilo purtroppo ed è un salmone selvaggio soccai del highland affumicato a freddo costa parecchio costa circa 40 euro al chilo qui lo pagate effettivamente abbastanza poco meno 45 per cento questo è molto molto buono dice mirko papela se non partecipi non esisti sicuramente il lontano degli occhi lontano dal cuore e lo so purtroppo poi dopo nel tempo si tende a dimenticare le persone in merito alle carni suine allora il mio parere che la carne di maiale e la carne è peggiore che voi possiate mangiare una carne molto molto grassa ecco qua e tendenzialmente eviterei veramente di mangiarle però è infatti il prezzo anche abbastanza diciamo è anche abbastanza diciamo economico difatti per questi musulmani non la mangiano e non solo non solo una carne molto molto grassa ma è una carne che va velocissimamente in putrefazione ecco qua anche per questo appunto i musulmani non la mangiano perché va velocissimamente in putrefazione e poi ovviamente si associa il maiale a un animale tendenzialmente sporco perché non fa selezione di quello che mangia che gliel'ha detto maomette che nel deserto non è conservabile infatti e fatti ma quello purtroppo non è che noi era detto maometto che nelle religioni ci sono indirizzi di vita che cosa vuol dire gli indirizzi di vita significa che viene indirizzato al corretto della al corretto stile di vita legato a quel tipo di società quindi la carne del maiale è vietata perché appunto vai a velocemente in putrefazione ma ovviamente ovviamente non è possibile esplicitare questo al popolino il popolino non non fa ragionamenti articolati né tanto meno scientifici calcola che comunque il popolo arabo anche quello indiano è stato anche fortemente legato alla cultura scientifica purtroppo molti di noi non conoscono la cultura scientifica né araba né addirittura indiana e questo è un peccato perché molte molte scoperte per esempio anche astronomiche sono state già fa furono fatte già dagli indiani o addirittura dai cinesi ma addirittura anche dagli arabi molto prima della parte occidentale purtroppo se non si studia realmente una storia della scienza internazionale si studia solamente la storia della scienza occidentale io per esempio ho studiato la storia della scienza occidentale non molte ovviamente tutta la parte orientale non la vai a calcolare dice vabbè allora loro erano sempre praticamente dietro di noi non è così ecco quando io poi dopo ho iniziato anche a studiare la storia della scienza orientale ho capito che in realtà spesso eravamo noi dietro di loro quindi chissà quali influenze quali ovviamente incroci ci sono state tra la nostra cultura e la e la cultura praticamente orientale calcola che poi la più grande biblioteca dell'antichità che esiste è stata quella di alessandria d'egitto che è andata poi dopo bruciata durante il grande incendio appunto della biblioteca del di alessandria d'egitto che era una delle sette meraviglie del mondo quindi del mondo antico quindi immagina chissà quali testi quale ricerche c'erano praticamente conservate lì dentro e chissà nelle parti indiane o arabe che cosa c'era quindi se studiate la storia della scienza internazionale vi si apre praticamente un mondo dice ma come scusami gli indiani gli arabi avevano già intuito questo avevano già fatto questa scoperta e perché non c'è stata detta perché ovviamente purtroppo mi sento di dire almeno ancora adesso si studia in italia soprattutto in italia poi dopo molto molto ancora legato alla religione ovviamente anche nell'ambito scientifico uno potrebbe dire pigliamo a zichichi che ovviamente la particella di dio la veramente vabbè non mi sento di esplicitare determinate cose l'ho già detto altre volte però non credo che una persona ovviamente segua un percorso scientifico si possa legare a esplicitare nell'ambito lavorativo la propria religione ecco qua anche i musulmani praticamente lo fanno io sono musulmano però abbraccio un percorso scientifico quindi nella scienza non faccio quasi sempre mettere anche la parte religione questo ovviamente è un altro argomento non voglio andarci diciamo lontano di fatti per questi musulmani non ho che gliel'ha detto ma mette che nel deserto non è conservabile come faceva alessandrino arcangeli prima del suo globe up che non faceva la selezione di quello che mangiava ma alessandrino arcangeli mangia di tutto da alessandrino ad arcangeli potrebbe essere comunque i prezzi qui sono molto buoni anche se ripeto io la carne praticamente di maiale non l'amo ci sono per esempio però questi mini ribs i mini ribs sono presente le costine di maiale per fare le costine di maiale come si deve bisogna soprattutto all'alavec bisogna seguire un procedimento molto particolare pensate che si prende il grasso del maiale si mette dentro questa pentola praticamente di rame oppure ancora meglio di pietra meglio di pietra ecco qua una pietra una pentola di pietra la vecchia ricetta quindi si si unge tutta la pentola con questo grasso del maiale poi si va a cuocere dentro al vino le costine quindi esce praticamente per per ore per ore quindi il vino deve praticamente entrare nella carne poi si vanno tutte quante a speziare c'è di tutto e di più ovviamente ci sono proprio delle vere proprie ricette per fare questo tipo di alimento che richiede anche tantissimo tempo infatti molte volte viene cotto praticamente fuori con la legna dentro questa pentola di pietra anche a volte nel freddo devo dire la verità effettivamente sono iper gustose e perché sono una bomba ovviamente di colesterolo e inutile ci diamo alcol più ovviamente grasso vabbè quindi ovviamente per le carni di maiale devo dire avete il prezzo della salamella per sempre 7,90 che è perfetto 7,90 vende la macinata di bovino sì non è una mista e quindi veramente veramente il prezzo sicuramente buono però ripeto non la carne di maiale è meglio proprio evitarla andiamo 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 tranne ovviamente forse negli insaccati dice mirko per le tue labi sono molto interessante potresti parlare anche della defecazione di ascoltere per ore e lì è molto importante la sai come si dice tromba di sedere sanità di corpo che cosa vuol dire questo che ovviamente chi diciamo butta fuori aria e purtroppo anche mi sento di mi stai facendo dire delle cose praticamente diciamo defica in una maniera regolare senza sanguinamento e non in maniera ovviamente troppo estesa sicuramente funziona il corpo e quindi butti fuori tutto quello che non serve il fatto di fare troppo di fare troppo poco ovviamente può portare sicuramente a un corpo poco sano poco sano clip e mi dispiace tu mi chiedi l'argomento io te lo dico però parliamo del tuo pesce preferito il salmone vedi un pochettino salmone e il prezzo del salmone in genere 40 euro al chilo quindi libera ottimi prezzi sui salmoni vedete fette di salmone norvegia e cereale di norvegia 35 euro al chilo ottimo 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 potete farli anche praticamente vedete ragazzi li potete diciamo arrotolare anche per esempio in un qualcosa tipo di insalata russa molto buono oppure per esempio nella maionese o addirittura nel risi fate il sushi praticamente al contrario ecco qua non me non ricordo come si chiami qui con dei mazzancolle tropicali 32 e 67 al chilo ma qui per il resto ovviamente di questi gamberetti che sono le mazzancolle praticamente sono 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 più che per 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 diciamo qualche cocktail non tanto sono molto buoni sicuramente però ovviamente il prezzo secondo me non giustifica il prodotto nel senso dal punto di vista mio poi se li volete mangiare giustamente non potete ovviamente comprare il prezzo comunque abbastanza buono vedete un pochettino allora il pesce il pesce ovviamente il pesce la carne più costosa che esista il filetto di orata è 24,90 al chilo è tanto il filetto di trota salmonata praticamente vedete questa trota salmonata iridea prezzo è ottimo la trota è un pesce di acqua dolce quindi praticamente di fiume o di lago e quindi praticamente devo dire avete il prezzo è molto molto buono poi la trota è quella che ecco qua filetto di torno pina gialla 16,90 è un ottimo ottimissimo prezzo devo dire la verità andiamo avanti con questa confezione di lupini quindi lupini in genere sono dei frutti di mare sono dei molluschi che servono praticamente per 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 insaporire i piatti ecco qua rilasciano quel sapore di mare ecco qua direttamente nel piatto soprattutto dello spaghetto che in genere in genere dovrebbe essere senza fatto senza sugo e quindi e soprattutto per fare secondo me una buona pasta un buono spaghetto di mare bisognerebbe usare la pasta bianca purtroppo purtroppo che è un vero blocco intestinale conosci mirko papela conosco il salmone scozzese che costa ancora di più del norvegese pensa un pochettino infatti il prezzo è 58 euro al chilo è però 50 grammi in realtà è uno spizzetto è uno spizzetto andiamo con gli insaccati gli insaccati abbiamo questo prosciutto questo ottimo prosciutto cotto di praga 2 euro al letto praticamente un ottimo prezzo ed è molto 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 buono io più volte l'ho pigliato coppa di testa è troppo grassa non pio salame non mi interessa la mortadella di bologna e la mortadella e la regina per quanto riguarda per quando mi riguarda degli affettati e questa qua ovviamente vi consiglio sempre di comprarla al banco quindi non comprate quelle insaccate compratele al banco un etto di mortadella in un panino col gorgonzola e la fine del mondo ma è anche la fine del vostro forse un po corpo quindi non abusate però pigliate sempre i salumi al banco in questa carne salata del trentino mai mangiata devo dire la verità pancetta cotta brianzata in realtà potete forse tagliarla a pezzettini e farle una in una in una matriciana e questo prosciutto di carpegna dopo il prezzo molto 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 buono 2 euro e 69 a letto quindi pensate che il cotto di praga costa 1 euro e 99 quindi potete immaginare che il prezzo sia molto molto buono porchetta rosso alla salsa barbecue l'ho provato non mi è piaciuto devo dire la verità petto di dacchino al forno questo è molto molto magro quindi come salume forse forse sarebbe questo il migliore da pigliare però ricordatevi sempre che i salumi contengono nitrate e nitrite quindi sono cancerogeni certi proprio per questa presenza della sostanza del nitrato e del nitrito olive nere per anzana sono fantastiche queste qua mettetele praticamente in uno spaghettino spettacolari buonissime biscotti morbidi iperal in genere diciamo questi tipo biscotti li preferisco farli a casa grissini iperal il prezzo comunque buono le potete mangiare così quindi hanno hanno sempre praticamente questi prodotti fatti praticamente proprio da loro pensate un pochettino croissant solo 60 centesimi praticamente nocciole cacao questi qua sono da pigliare se volete farvi una buona colazione un po grassa sicuramente però sicuramente se vi volete togliere lo spizzetto ve lo togliete ecco qua andiamo avanti con altre offerte o altre offerte da comprare eccolici qua praticamente siamo pronti anche si potrebbe dire con il tempo di pizzoccheri quindi abbiamo questo telino di chiuro mai mangiato formaggio branzi mai mangiato latteria di livigno eroe non so cosa sarà un formaggio da grattugia il piemontino valgrana qui sopra vedete questo è un altro formaggio da grattugia solo 1 euro e 09 al letto questo per esempio ottimo come prezzo questo latteria livigno eroe non so non l'ho mai mangiato il prezzo ovviamente se un formaggio da grattugia il doppio da provare forse se vi piace il formaggio da grattugia questo taleggio dopo in realtà il taleggio non è uno dei miei formaggi preferiti a volte l'ho messo anche sulla pizza non mi è piaciuto devo dire la verità per come la sarà un formaggio da mezze nomi come non lo so questo 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 latteria di livigno eroe questo qua allora questo piemontino valgrana sicuramente un ottimo formaggio da grattugia il prezzo anche molto buono non è sicuramente il parmigiano reggiano che ovviamente deve stare deve rispettare determinati criteri però sicuramente da provare secondo me questo latteria livigno eroe non so cosa cosa sia pecorino sardo non vado certo a comprare un formaggio diciamo non locale conviene sempre secondo me comprare formaggi locale questo è mio parere personale soprattutto se tendenzialmente o vivete poco in un posto o ovviamente diciamo venite in vacanza provolone piccante auricco venendo da napoli non compro certo il provolone qui ecco qua non nel senso che non sia un provolone un provolone certificato ma è normale che avendo mangiato anche abbastanza provolone a napoli soprattutto in età infantile o adolescenziale normale che non preferisco provare altro pura di capra a letto 2 euro al chilo praticamente è buono pecorino cenerino ottimo il prezzo anche questo è molto buono anche il pecorino sardo comunque buono come prezzo nel 49 buono questo lo grattugiate praticamente sulla pasta ed è quello che è poi ovviamente il re dei formaggi per quanto riguarda insieme al parmigiano reggiano il gorgonzola dopo in questo caso quello in offerta è quello della gima un r19 allora diciamo ci farà dice dice mirko papella ci farà ormai una lave recensione dove provi cose nuove e fai la rece certo perché no un format che potrebbe far tornare alessandrino arcangelo ma guarda che alessandrino arcangelo è molto presente su youtube infatti se vai su youtube e vai a vedere praticamente vedi che lui è praticamente commenta tutta forza è scatenato su questo carnazzo dicendo e mirko papella stavolta non il formaggio della martellina non si tocca e chiamate il moderatore che è lui stesso sapesse la pecorina cenerina quanto è buona ma chi se lo chi lo pensa chi lo pensa youtube non interagisce con noi no allora lascia sempre commenti lascia sempre commenti sotto i video il problema è che non può partecipare dal vivo perché è il blocco legato a quello che sai ecco qua il polentone valtellina iper al preferisco il casera rocchetto di capra valtellina iper al prezzo molto buono il polentone valtellina iper al questo formaggio è idoneo da mettere nella polenta bollente ma quando quando praticamente la si va a fare come si fa la polenta qua o si fa una taragna che è una polenta fatta col burro e con la farina di grano saraceno e si buttano mentre si fa praticamente la polenta lo potete fare sia col col gira polenta meccanico meccanico elettrico che tengo io andatevi a vedere la recensione cercate polenta sul mio canale youtube oppure girando a mano girando ma senza far poi bruciare ovviamente la polenta perché la fiamma deve essere moderatamente diciamo alta non troppo bassa né troppo alta tre di bruciate tutta la polenta all'interno oltretutto la pentola in cui si fa la polenta una penentola di rame pensate un pochettino non so se ne passa credo in passato si facesse anche in quella di pietra quindi poi dovete pulirla quindi per tutto un procedimento anche abbastanza lungo con senza ovviamente raschiare troppo di un procedimento anche abbastanza lungo fare la polenta come si deve comunque nella polenta spesso si buttano il burro e anche ovviamente il formaggio quindi questa crema fusa e a volte ci ho messo anche lo zola del gorgonzola quindi facevo praticamente la polenta mettevo delle strisce di gorgonzola dentro e poi mettevo sopra praticamente il la polenta praticamente dice mirco papella quando la motivazione è forte ogni ostacolo si abbatte mirco bella sansù dall'arte del bombolone valtellinisi mirco bella pietra ecco qua il bombolone le strisce cavallo goloso le strisce cavallo goloso ma andiamo andiamo a vedere qualche altra cosa qui ci sono dei prodotti praticamente confezionati il burro il burro è ovviamente molto importante molto importante quando andate praticamente a fare i pizzoccheri quindi io per esempio prendo quello la della latteria di divigno che praticamente ho qui vicino come voi sapete ormai avete visto i miei video vedete dove abito o questo parmareggio burro a volte questo parmareggio burro è un ottimo ottimo offerte quindi prendo questo altra marca molto buona devo dire la verità è la vallelata effettivamente vedete 200 grammi di ricotta a un euro che ottima la ricotta vallelata veramente buona ecco qua dice mirco bella ti fai anche l'estito mirco che dici lo sburgo della fila del fame approvato mirco bello ovviamente molto 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 diciamo molto critico molto molto trash oggi stracchino granarolo anche questo è molto molto buono soprattutto sul pane poi su questo non so se mirco bella mangia o meno i formaggi la mozzarella fior di latte vallelata 3 euro praticamente per 3 mozzarella da 125 grammi luna ottimo prezzo 7 euro 98 questo è molto buono vi ricordo sempre quando fate la pizza dovete utilizzare delle mozzarella delle mozzarella poco succose io la migliore devo dire la vita che ho trovato che ho provato è la brimi fatta con latte dell'alto adige che non è una mozzarella molto diciamo liquida non rilascia molto tra virgolette latte e quindi è ottima per metterla sulla pizza infatti la poi dopo la pizza che ho fatto ieri praticamente viene è stato fatto con un formaggio grasso o semi grasso proprio qui locale pensate un pochettino dice mirco bella bevi succo di frutta dall all'ananas ma in realtà preferisco mangiare la frutta praticamente così un gesto per chi si vuole bene si riferirò a quelli dell'euro spin questo tuo suggerimento ora gli scriviamo io e il carnone a perché questo mirco bella vallero spin io mi trovo bene andare all'iper al calcola che io qui vicino o euro spin lidl e i per al sono circondato dagli i per al però il migliore sempre fuentes che hanno maggiore scelta senza nulla togliere a quello di rogo lo facciamo una petizione scendo torg si potrebbe fare comunque la ricotta valelata ottima anche se a volte devo dire la verità se io devo uscire tra una confezionata e una al banco praticamente a un prezzo diciamo simile quasi sempre prendo se costa ovviamente nella stessa maniera prendo quella fresca al banco e quindi preferisco quella fresca al banco a volte l'ho trovata anche a 50 centesimi al chilo e quindi sono andato a prendere quella fresca al banco qui salami praticamente confezionati andate al banco e ve li fate tagliare questo è il mio parere personale però ci sono delle cose sfiziose vedete ragazzi se non fate la pasta a voi fresca il primo salame il primo salame non si scorda mai diceva una ragazza ecco qua la piazza qualcuno devo ricorda vallelata perché la vita va sbrotolata mirko papela dice come si chiama l'hai messo di sfuggita che cosa che cosa il primo salame mirko che cosa dice ecco qua allora casa milo vedete la casa del cane di paolina praticamente pasta fresca bio casa milo le orecchiette io le occhiette le faccio in casa devo dire avete tutta un'altra cosa il salamone ecco qua te ne sei accorto allora te ne sei accorto il primo salame non si scorda mai dice una ragazza ecco qua la piadina di alessandro arcangeli questa qua è ottima come farla praticamente in realtà si fa in questa maniera si prende la piadina la si mette in padella quindi la si fa praticamente riscaldare la potete mettere anche nel microonde poi ci spalmate sopra praticamente del gorgonzola o una cestosa ci mettete sopra della mortadella oppure del prosciutto cotto del prosciutto crudo rotolate e mangiate diventate giganti ecco qua quindi te ne sei accorto dissociamoci questo è buono buone anche il prezzo è buono 3 3 euro e 99 tre pezzi di piadina da 360 grammi per due quindi sono tre pezzi però non so perché metta 360 per due in qualsiasi il numero io quando parli mortadella è il re dei salumi però è un forse forse uno dei salumi più distruttivi cosa ne pensi le vellutate di zucca vellutate di zucca in realtà sono molto buone ecco qua anche se in realtà legate alla pasta in realtà la zucca viene utilizzata al posto del grano ecco qua quindi tendenzialmente e per anche un po riciclare questa zucca infatti molte volte ho visto qui nei campi le buttano proprio le zucche anche io ne faccio un uso smodato eccetera al posto del grano è ottimo gnocchi di sole patate acqua patarò in realtà li potete fare anche da voi vi ricordo poi dopo che il rapporto grano patate è praticamente 3 a 1 quindi che cosa vuol dire questo che se mangiate 100 grammi di di pasta per esempio di grano potete mangiare o mangiate quello mangiate quello questo è il mio parere di persona 300 grammi di parte di patate ormai è un membro acquisito per l'anzianità il marchio di alessandro arcangelo e poste può essere che gira pure con le magliette di poste tatane anche io le faccio in uso smodato ecco qua quindi andiamo qui sopra in alcuni elementi ovviamente pisellini fini i pisellini vi consiglio sempre si può dire per una questione di comodità anche di comprarvi i surgelati perché ne che mangiate tutti sti piselli oppure bollite in scatolati piuttosto che freschi perché effettivamente poi li dovete pulire eccetera quindi qui il prezzo è molto buono dice mia mirkovela la prende dal cassetto e può essere così ecco qua vedete i gamberoni praticamente gamberi argentini sgusciati vedete qui ovviamente stiamo parlando di un prodotto scongelato sgusciati con codine vedete meglio i piselloni ecco qua meglio i piselloni diceva una ragazza e il prezzo è molto buono la panapesca è un'ottima marca quindi 22 83 i gamberi già sgusciati ovviamente un prodotto surgelato e non fresco qui ci sono le patate in realtà io le patate al chilo le pago praticamente le patate al chilo le pago praticamente un euro al chilo quindi spuse quindi posso scegliere io le patate quanto comprarne e se sempre all'iperal quanto comprarne quale prendere quelle pagate quasi il triplo secondo me mio parere personale meglio tagliarvele da sole a casa così tutto preferisci il pelo e il raso dipende se fa freddo meglio il pelo meglio i piselloni ovviamente qui abbiamo filetti merluzzo ovviamente il prezzo è basso perché un prodotto ovviamente congelato spesso voi sapete vengono lavorati direttamente su enormi navi questi pesci questi merluzzi praticamente quindi vengono creati direttamente sopra le navi vengono poi surgelati sulle navi e poi dopo vengono passati piano piano quindi esistono delle proveri e proprie navi per lavorare il pesce se è veramente il sun sun della spesa dovresti scrivere l'arte della spesa e metterlo su amazon si potrebbe fare quello altro grande ecco qua ragazzi i gelatoni praticamente gli magnum 4 euro 4 gelati 4 gelati quindi questo un ottimo 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 prezzo ovviamente il magnum costa un pochettino sponso il gelatone ebbene il gelatone non si scorda mai sponsor incredibili la per già me l'immagino di eugenio e il problema di ma il problema è questo il problema o ragazzi guardate questi pisellini fini della prima a 2 euro al chilo mentre questi al chilo 3 32 e oro gel è sicuramente un'ottima ottima marca devo dire la verità però 2 euro un chilo di piselli ragazzi che dirvi piccolo of topic ne deve scrivere lo script del gioco di alessandrino e qui ragazzi i progetti sono tanti i progetti sono tanti e un altro cornetto semplice congelato da poi praticamente scongelare e mangiare sono questi qua delle tre marie tre marie una marca della galbusera ormai acquisita dalla galbusera molto molto buona di qualità il prezzo anche buono però sinceramente invece di comprare il cornetto congelato e poi scongelarmelo e quindi ovviamente pagare di elettricità per scongelarlo per esempio nel microonde preferisco piare i cornetti a 60 centesimi dell'iperal quindi con eugenio abbiamo progetti in essere eugenio sta scomparendo sta lavorando molto oppure si è scocciato un pochettino devo dire la vita forse di youtube non lo so per le puzzi ho pensato che il dottor zombie z1 ha cambiato nick ma non sappiamo ovviamente cosa stia facendo adesso dove stia lavorando che cosa che cosa stia attuando praticamente in merito a queste alette di pollo durango praticamente il prezzo è abbastanza alto 0,65 però sono già fatte praticamente quindi sono praticamente precotte e dovete solamente riscaldare in padella se le volete mangiare io preferisco farmele sempre da me ecco qua chiedi una qualunque se avete notizia di alessandrino purtroppo no purtroppo c'è purtroppo sì nel senso che lui commenta sempre su youtube però non è presente che dirti per il kickstart invece ho pensato a lombardi non lo vedi più alessandrino come francesco lombardo alessandrino è presente su youtube commentato in realtà alessandrino si pensa che sia un crawler di come ma non si sa non si sa perché devo dirti la verità devo dirti la vita alessandrino mi ha più volte diciamo lasciato a bocca aperta devo dirti la verità comunque in merito alla pizza ecco qua pensa un pochettino ecco qua io lo vedo in altre live rete addirittura che delusione veramente alessandrino in altre live su youtube o su twitch ecco qua quindi bisogna sicuramente approfondire questa cosa poi glielo dirò comunque come la pizza sotto sia il live sotto suzoselle allora un'altra cosa ecco qua allora no no i lombardi su altre live rete vabbè se gli piace per farti capire qual è il problema se può essere pure che gli siamo diventati antipatici può essere anche che gli siamo diventati antipatici quindi qual è il problema a volte sai deve venire qui ma in realtà ci sono ci sono altri amici ci sono altri amici che stanno arrivando ma ho avuto allora lo possiamo sfruttare a tutta forza quindi lo vuoi prendere di mira giusto può essere che francesco lombardi francesco lombardi o lombardo adesso non ricordo francesco lombardi lombardi praticamente credo che credo che vabbè ragazzi non fatemi ridere troppo che poi dopo sono anche le 7 25 di mattina comunque per dirvi sì sicuramente il fatto la problematica del del franceschino lombardi ovviamente la sapete anche voi un pochettino i tuoi fan si rendono conto che siamo un cove psicopatici e vabbè però intanto vengono infatti è arrivato anche la mente mente e c'è stato ieri un ragazzo praticavo un ragazzo un uomo lui amante di holly e benji pensate un pochettino al nick di taro misaki si chiama proprio taro misaki mi è venuto a salutare ha detto giocherino giocherino adesso devo andare in ufficio praticamente non posso ascoltarti più ho avuto anche paura che facesse praticamente un incidente si ho visto quello non quello nuovo no no lui non lo so mi ha detto andava in ufficio di tra adesso devo pigliare servizio in ufficio devo pigliare servizio in ufficio quindi non so che lavoro facesse ma so che ha un pubblico 20 2000 follower quindi non è sicuramente a un basso livello non lo so ha detto devo pigliare servizio vabbè ragazzi no non lo so se fai serviziente ecco qua comunque ragazzi in merito alle pizze non lo so mi è sembrato una brava persona mi è sembrato una persona molto molto educata poi non so che cosa va già di prima mattina in realtà prendeva servizio mi sembra verso le 10 10 e mezzo perché io la mattina erano praticamente libero la mattina ero praticamente libero e e poi dopo praticamente il pomeriggio dovevo lavorare in merito alla pizza zucca comunque in merito alle pizze ovviamente abbiamo questa pizza la numero uno di tal pizza ip abbiamo questa pizza praticamente numero uno di tal pizza vedete margherita il prezzo è 2 euro e 59 un buon prezzo di verità io preferisco sempre farmela da me certo una pizza 2 euro e 59 rispetto a una pizza metti in conto 3 euro e 50 ormai 4 euro anche a napoli la pizza margherita ovviamente stiamo parlando di un prodotto ovviamente fatto industrialmente e ovviamente è congelato mi come dice ma chi li fa sti flyer dottor zumbi o ma sono fatti bene devo dire tra vita mi sono sempre trovato bene col flyer dell'iperale su questo sanno fare il loro mestiere ecco qua fatto il laboratorio ma scusami non ti vuoi fare la pizza da te giustamente che scelta fai se non vuoi farti la pizza da te che scelta fai o tutto questo è una margherita 4 e 35 grammi 2 59 questo qua è praticamente una zucca e salsiccia la pizza del mese penso un pochettino edizione limitata edizione limitata sono forse che su due pizze all'interno non so comunque 2 euro e 79 zucca e salsiccia ecco qua è proprio parte di grasso è così è così e dobbiamo dire che così andiamo avanti a vedere qualche altra cosa ecco è qualche altra cosa la de cecco mezzo chilo 84 centesimi è un ottimo ottimo prezzo ovviamente stiamo parlando di un riso e di un di una pasta bianca mirko dice ma dietro le bella foto che leggo servizio clienti non lo so potrebbe ma guarda che guarda che alessandrino arcangeli praticamente ha lavorato alessandrino arcangeli ha lavorato ai nei supermercati anche quindi per questo lui ha sviluppato una forte adesione supermercati pensa che quando io iniziai a studiare architettura visto che anche io praticamente facendo la spesa io ho iniziato a vivere da solo a 25 anni no perfetto quindi fino a quando non ho incontrato la giocherellona ho vissuto da solo io praticamente facevo io la spesa ho sempre fatto tutto io quindi tu effettivamente facendo la spesa sviluppi un senso di appartenenza al supermercato perché almeno ci vai una volta a settimana almeno una volta a settimana ecco qua quindi effettivamente hai un senso perché poi tutta questa roba questa roba che puoi cucinare questi e poi conservare poi andare al risparmio non è bello quindi e quando inizia a studiare architettura e si quasi quasi potrei iniziare a progettare anche i supermercati penso un pochettino dovremmo contattare quelle mela dire che abbiamo visto il file nelle tue email magari ti passano qualche friatiello una qualunque ascolta bene news fresche fresche su alessandrino il cuore direttamente da reparo perché scrive lentamente il banco frigo delle poste italiane va bene ragazzi che dimmi il cover l'ho già scatenato praticamente riso carnaroli riso carnalo di un riso molto molto buono ma è anche un riso abbastanza caro questo prezzo è ottimo ve lo posso assicurare un carnaroli costa abbastanza e pensate un pochettino che un integrale lo pagate due euro lo pagate due euro quindi un carnaroli 2 ore 39 veramente un ottimo prezzo devo dire la verità e vabbè è un ottimo prezzo allora in merito alla polpa fine di puglia grosso del gargano il prezzo è buono però allora siamo come i due bambini che chi ha messo a ridere per de me per cose dementi per ogni cosa per cose che dementi per cose ovviamente inutili forse la polpa fine in realtà io non amo mettere la polpa sul sul sulla pasta preferisco mettere praticamente il sugo de mensile sicuramente il gran pesto è un buon ottimo prezzo però devo dire la verità preferisco farmelo da me è normale che se andate di fritta e volete fare la pasta col pesto anche per due persone 200 grammi di pesto vanno di pesto vanno bene ottimo prezzo praticamente il tonno riomare solo 14 e 33 al chilo in olio d'oliva ottima qualità 50 per cento di sconto benissimo i borlotti questo li prenderò sicuramente 2 euro e 92 al chilo sono quelli valfrutta sono fantastici il la valfrutta è una delle marche migliori soprattutto per quanto concerne i legumi filetti di tonno questo qua del consorzio ecco qua il prezzo è molto più alto preferisco le scatolette dell'ario mare devo dire la verità ecco qua anche perché sono molto più comode le scatolette di tonno piuttosto che ovviamente il tonno fatto qui a trancetti ma frutta legumi di prima la natura di prima mano olio di semi di mais in realtà l'olio di semi è un olio inferiore all'olio extravergine d'oliva quindi vi consiglio sempre di usare un olio extravergine d'oliva però con i prezzi che si sono alzati per chi non se lo può permettere e pigliate questo qua di maes 2 euro e 30 cosa ne pensi logo della star non ti fa pensare alla fallout potrebbe essere dobbiamo dire la verità un po fallattiana e lo stesso degli dagli anni 70 e squadra che vince non si cambia perché la rizzoli a rizzoli non è il logo e praticamente del 1906 forse il vecchio logo della rizzoli comunque questi filetti di sgombro dei rizzoli ottima qualità veramente ottima qualità il prezzo ovviamente è quello che ovviamente vedete 14 e 33 il tonno praticamente i filetti di sgombro 14 ero solamente che lo sgombro un po più magro del tonno se ben ricordo devo dire la verità sotto questo aspetto qua dico dico sempre la verità ottimissimo il prezzo del pane bauletto mulino bianco io prendo quello della prima a volte che 400 grammi lo pago 1 euro e 10 1 euro e 15 0 95 ottimo offerto qui quindi fate scorte ovviamente guardate sempre il prezzo praticamente il prezzo nella data di scadenza chiedo scusa un chilo di fusilli 1 euro e 29 però vi consiglio a questo punto senza nulla togliere ovviamente a questa pasta della prima poi bisogna vedere anche chi l'ha fatta praticamente questa pasta perché la prima la marca e la distribuisce la prima e la linea praticamente dell'iperal però la pasta spesso è fatta è una è una pasta con non pubblicizzata è fatta fatta in negli stabilimenti con le ricette di produttori a volte anche di pasta quindi di un certo livello fatta spesso però con materiali meno selezionati quindi che rispondono a critere di criteri di controllo qualità leggermente leggermente minori e torno prima infatti vedete 12 euro e 0 5 è normale che vado a piare quello della rio mare a 14 e 33 è normale la differenza è molto molto bassa però se ovviamente non trovate più il tono rio mare giustamente che vado a fare vado a comprarmi dei costi della prima che il prezzo ovviamente è anche inferiore addirittura quindi ed è anche anche molto buono però preferisco pigliare qualcosa di che sia il top di qualità poi stiamo parlando ovviamente di 50 per cento di sconto rispetto al prezzo di destino pensate un pochettino un pochettino qui come la pasta praticamente la di cerco 1 euro e 68 al chilo non vado a prendermi ovviamente i fusili da un chilo è inutile che ci giriamo qui sopra intorno dobbiamo dire la verità no perfetto andiamo a vedere un pochettino questi alimenti confezionati un pacco di biscotti questi qua della preziosa sono i lazzaroni pensate un pochettino un chilo di biscotti questi qua simil pan di stelle con cacao e nocciole questi li prenderò sicuramente il prezzo è buonissimo due ore 10 un chilo di biscotti e poi è la marca la marca e lazzaroni quindi sicuramente alta qualità i punti ottimo prezzo 4 euro 84 al chilo un bipacco da 660 grammi 20 plum cake 3 euro e 19 ecco qua molto molto buoni ovviamente sono sempre merendine quindi anche abbastanza grazie lazzaroni alzatevi e mangiate ecco qua diceva qualcuno le fette biscottate non le amiamo tanto a casa soprattutto perché preferiamo forse il pane oltretutto costano diciamo non è che come potete vedere due ore 62 le fette biscottate il pane due ore 38 il prezzo è più o meno lo stesso però ovviamente le dovete anche sgranocchiarelle dobbiamo dire la verità nuova cocco croccantezza però quindi due euro e 62 maggi più sicuramente i cereali special che allora io ho comprato voi sapete dalla prozis tantissima avena biologica ecco qua e devo consumare quella sicuramente il prezzo dell'avene è molto inferiore a questi cereali che spesso vengono addizionati sì con vitamine minerali ma anche con lo zucchero gli special che sono i migliori cereali fatti col riso che abbia mai provato devo dire la verità altro che i fitness necessari che non mi piacciono proprio ecco qua e quindi apporto ho provato anche dei cereali fatti con riso ma c'era anche il latte dentro il prezzo è quello che è però la qualità è anche quello che quindi quattro ore 19 il paccone devo consumare la vina quindi credo che non li piglierò gli special che gli kellogg's extra sono dei praticamente di una specie di granola addizionata spesso con cioccolato frutta secca eccetera il prezzo è praticamente lo stesso 5,98 al chilo e 5,99 però in genere gli special che li consumate più lentamente ecco qua rispetto a questo che veramente va via tantissimo che sono dei veri e propri pezzettoni che spesso non si staccano nemmeno nel latte infatti consiglio sempre di mangiare le di bere il latte a una temperatura abbastanza tiepida sempre ovviamente non lo pigliate d'estate dove fa caldo gli abbracci 4,42 al chilo non mi piacciono tanto come biscotti infatti prenderò i lazzaroni 2,10 al chilo che sono un buonissimo e marca di tutto rispetto come marmellate abbiamo questo fior di frutta bio rigoni 7,85 questa composta di fragole via verde bio ebbè è normale che tra tutte e due tra tutte e due forse sceglierei questa 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 rigoni che ovviamente di asiago che è un'azienda veramente un'ottima ottima azienda fa prodotti altissima qualità non che questa via verde bio della primia non sia di qualità però è normale che la differenza è minima preferisco questa qua tanto anche perché quanta marmellata mai mangerò i dolci gusto in realtà ho ancora tantissime capsule dolci gusto qui sopra abbiamo anche delle alcune merendine qui vedete 12,81 e 4,99 preferisco sicuramente lingo piuttosto che mangiare questa nutella biredi che ovviamente molto 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 grassa ma sta avendo ovviamente un grande successo l'unico fatto ovviamente è legata alla carta oro alla carta spesa mica quindi senza la carta e quindi vi consiglio sempre di farvi la carta non potete comperarla ecco qua a quel prezzo a quel prezzo andiamo un pochettino qui con queste mostre moncho lorenz che su patatine forse non lo so quindi meglio evitare molto molto grassi in genere le patatine contengono circa 30 grammi 30 per cento di grassi caramelle aribo che forma avete questo una forma un po' ambigua dobbiamo dire la verità a forma di denti di dracula sembrano un'altra forma devo dire la verità va bene solamente un pacchettino un euro gli sperlari queste gran gels un chilo di gran gel 3 e 79 ottimo ottimo prezzo devo dire la verità un chilo di caramelle ragazze quante le consumate noi consumerete mai happy halloween queste caramelle piavolo 934 ovviamente ci mangiano tanto caramelle e la mi ricordo che un mio amico aveva praticamente una capsula in bocca maggior una caramella di questa si sta con la capsula quindi una vera e propria colla dobbiamo dire la veda quindi rimase gli rimase praticamente caramelle e capsula insieme e dove dovete andare dal dentista non so quanto si prese per riattaccare quella capsula zucca di allo con le scicchifizielle qui sopra kinder cellar kinder cioccolato varie maschere come quelle del giocherellone vedete un pochettino quanto costano le maschere per farvi giocare il secchiello con la testa praticamente per raccogliere praticamente le caramelle abbiamo qui vari cioccolati moscheri 2256 praticamente della ferrero molto buoni ma liquorati mirco bella dice cattiva puliziaia si ascoltano sta cosa i tuoi 3.004 scritto sono veramente nei guai ma no ma perché il fatto delle caramelle ovviamente io non amo tanto le caramelle effetti quest'anno ci sarà il secchiello vabbè vabbè e quindi ci sarà il secchiellone che dirvi andiamo avanti con questo cioccolato di modica immagina alessandra arcangeli con in questo secchiello a forma di questo secchiello va bene ragazzi va bene andiamo questo cioccolato di modica gp rizza devo dire la verità vedete un pochettino al pistacchio 16 euro e 90 non è poco per un cioccolato della vita però una tavoletta 100 grammi f vabbè diciamo che un cioccolato un cioccolato vedete un pochettino prima c'erano le tavolette di cioccolato pensate un pochettino della della lint un euro un euro a tavoletta 100 grammi in realtà non è tutta sta differenza non è nemmeno il doppio quindi forse da provare anche se il pistacchio non cioccolato non so a voi piace lo so ditemelo voi io lo comprirei per ben due anche per il carnazzo uno per te uno per il carnazzo questo cioccolato fondente vitor è ottimo per fare soprattutto dolci lo andate praticamente a liquefare nel pentolino e ci potete fare di tutto e di più cioccolato giandui acquisto di giandui otti con dentro praticamente le nocciole eccellenze feletti boeri boeri rovelli vari caramelli al cioccolato qui al liquore con la ciliegia dentro ferrero rocher cioccolato ecco qua nocciola ave avellana di avella praticamente speciale e vabbè ma qui ovviamente sei impazzito con quella battuta non so speriamo che alessandro arcangeli non legga il problema è questo che alessandro arcangeli vedrà questo questo video vedrà questo video e purtroppo cioè non speriamo che non se la prenda male devo dire avete perché tu lo sa che questi video basati sui supermercati non ci scappa ferrero rocher origina una tavoletta di cioccolato alla ferrero rocher mai provata devo dire avete il prezzo è anche a 90 grammi 1 euro e 49 16 e 59 16 e 90 questo cioccolato di modica e vabbè che dirvi giustamente la ferrero dice fin quando se lo comprano e gli faccio ovviamente questo prezzo da provare però non lo so ma ti pare se la prende abbiamo scherzato su di lui tutta la live più più tutta la vita che tutta la live baci amaretto perugina i baci perugina andatevi a vedere il mio speciale su luisa spagnoli che titolare della perugina inventò i cazzotti della perugina che poi ovviamente preso il nome di baci perugina mi ricordo il carnazzano grazie 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 mille prego prego carnazzone luisa spagnola no mirko e allora ecco qua e poi abbiamo le praline praticamente al pistacco di gennaio le praline pistacca di gennaio quindi abbiamo prima la pasta di milo e poi abbiamo le praline di gennaio chissà se di prego quando fa il ball blasting queste però queste queste però sono le praline di gennaio vedi di gennaio ecco qua e se questo è il cognome che ti posso dire buoni questi gianduiotti della novi ovviamente sono dei gianduiotti fatti al gusto appunto di giandui a bianco cuore non so cosa sia una specie forse di bacio perugina della vitors 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 faceva pure cioccolato fondente perfetto poche coffee ovviamente il prezzo anche a molto molto alto 32 poche coffee ragazzi immaginate immaginate che carica di caffè dentro avete e poi il cioccolato della novi che è sempre fantastico buonissimo queste qua il nocciolato della novi fantastico cioccolato gianduia compregiate nocciole intere delle nostre colline capolavoro questo cioccolato della novi buonissimo ragazzi andiamo avanti andiamo avanti ovviamente vedete acqua tonica bibita schweppers un euro al litro coca cola un euro e 11 al litro ottimissimissima offerta questa qua c'è anche quella in lattina e lo so mi come per la stisi sei proprio le praline le praline di gennaro non lo so è il topo è il topo forse il topo insieme al secchiello di alessandro arcaggio e poi ovviamente il pist up poi 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 abbiamo praticamente queste lattine di coca cola come potete vedere un euro e 66 allora io ovviamente se volete la monodose oltretutto in una lattina di alluminio sicuramente per comodità la lattina è migliore però ovviamente il costo un pochettino più alto e vabbè giustamente ora mi vuole una patch del gioco dobbiamo correggerlo dobbiamo correggerlo e quindi ovviamente ci sono le birre fantastico e adesso vediamo vediamo il prezzo delle birre giustamente perché mircola bella non mangia carne ma beve alcol ovviamente e quindi abbiamo questa coca cola praticamente un euro e 11 questo energy drink non li prendo birre peroni abbiamo questa birra ne che in due euro e 53 al litro quindi la confezione da tre bottiglie da 330 millilitri 2 euro e 50 le birre peroni un euro 81 la perone una fantastica birra secondo me una delle birre migliori dove dirte la vita un euro 81 bassissimo prezzo da pigliare ci sta ci sta calcolando che al bar la paga e 50 solo line che solo una è normale il bar deve deve camparci e poi questa bex sicuramente può piacere non piacere diciamo il quantitativo di alcol è solamente al 5 per cento un euro e 94 sicuramente vi consiglio la birra peroni senza alcuna ombra di dubbio oltretutto è anche prodotta in italia quindi portate denari al nostro a un'azienda italiana si riabile con il vetro verde sono buone rispetto a quelle che sono con il vetro marrone mia teoria tu dici tu dici ma in genere si è ovviamente sì però ovviamente il prezzo il prezzo è un pochettino più alto energy drink most i drink non li considero proprio non mentre almeno a me non interessano i vini di lasciare stare come stile di birra intendo è sì ma tu pensa che poi all'ipera alla volte fanno la festa della birra fanno la festa della birra e a volte a fanno in parte delle piano o addirittura dei plan a parte per le birre e hanno una varietà di birra soprattutto l'iper alfuentes enormi il quale dice come sia libera intendo il colore penso sia rappresenti il gusto cioè si ubriacano con i clienti ebbe qui si beve qui si beve qui si beve qui si beve allora entra due zambe ed esce a quattro molte volte è capitato di vedere persone a quattro zambe calcola che qui praticamente fanno anche la festa dove si beve anche parecchia birra per fortuna che ci sono i carrelli allora i carrelli anche per bambini più che altro molti adulti si mettono nei carrelli vabbè ragazzi qui ovviamente bagno doccia 378 ottimo prezzo doccia schiuma d'av buono il prezzo ma vi consiglio sicuramente un elettro roberts o questi qua borotalco che sono veramente prezzi assurdi 378 praticamente fate proprio una scorta e vi lavate tutto il giorno balsamo fantastico frutti sgarnier questi qua ovviamente quando vedete october festa libera ci fanno ce la fanno la fanno i due davanti non ci interessano l'ho ma da puzzare sicuramente l'odore di testosterone però la problematica ovviamente che se dovete sicuramente comprare degli sciampi dei bagno schiuma vi consiglio sempre di non fare come fa il giocarellone che compra quelli economici ma comprate questi qua di qualità questi qua sono buoni tre euro e tre euro praticamente per due confezioni quindi al litro 5 euro e 98 come dice il taramasco il feromone ma il taramasco è sempre più molto lo vedo sempre più cadaverico quasi forse il fatto dell'agenzia delle entrate lo ha fortemente toccato oppure non se ne è proprio fregato per cui ci sono robe per pulire i gatti ovviamente noi non abbiamo non abbiamo gli animali mi sembra mirko per abbia un gatto però abbia un gatto un cane praticamente oppure il fratello non lo so no no noi siamo economici più di te pensa che io mi lavo con l'acqua di rosmarino o petali di rosa o un cane akira akira toriyama praticamente si chiama così akira akira del mitico film applicato o un gatto cane un gatto cane perché il cane si può akira papella akira papella pratica è del nuovo personaggio potremmo inserirlo akira papella in un videogioco qui ci sono altri sconti che però dovete abilitare tramite l'applicazione quindi scaricate l'applicazione dell'ipera le potete abilitare lo sconto vedete ovviamente non viene fatto non viene riportato il prezzo ma viene riportato solo sconto questo è ottimo 25 per cento lo sconto della farina nuvola questa è ottima per la pizza gli ultimamente sto usando una farina molto economica però effettivamente 25 per cento la farina caputo nuvola è ottima anche le gocciole sono buone che poi attira papella praticamente vorrei dire a chi era papà attira papella quindi la zuppa della toscana zuppa la toscana ecco qua farro e fagioli borlotti ecco qua devo dire la verità che dice anche le parolacce praticamente la zuppa la toscana quindi di questa ti piace e allora se vieni qua praticamente in valtellina quando farò partire il progettone non solo dei raduni ma addirittura il progettone dei mitici parlerei anche dal sedere poi sicuramente farro e fagioli le live da quella parte la ragazzi e vabbè dobbiamo dire la verità e poi dopo dobbiamo usare il paraton tax a tavola e non solo a tavola vabbè qui troviamo ovviamente diversi o per la vostra via non ho la vostra via a casa non l'ho mai voluta a mettere finimmo il canale youtube di eugenio certo finiremo nel canale più che altro finiremo come il problema che verremo chiusi verremo chiusi come il canale di eugenio più che altro e dobbiamo dire la verità è quello il problema formato scorta quindi di xana praticamente per lavare detersivo lavatrice attenzione che ragazzi la differenza tra lavatrice e mano che i detersivi per lavatrice sono molto più aggressivi quindi non lavate i panni ovviamente a mano col detersivo di lavatrice soprattutto senza guanti e finiremo come il canale di eugenio quindi a cacca e potrebbe essere qui gli scottex per il lasino ovviamente qui era vari elementi che poco mi interessano deve dire la verità interessano più le donne queste creme di bellezza ma noi siamo brutti e non ci interessa dove però il sapone liquido ragazzi il sapone liquido questo sapone liquido ricarica vi consiglio di comprare sapone due litri due litri solo 2 euro e 29 vi dura praticamente una vita mi mille è un'ottima marca devo dire da economica economica ma ne vale la pena caglieremo deve fregare tutti i campi primo mercanale di eugenio sapone liquido facciamo fondiamo i saponi vediamo però 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 vedete ragazzi i dentifrici questi colgate due ore e 49 a dentifricio non male come offerta shampoo doccia non male come offerta due e 49 e mezzo litro schiuma da barba vediamo per noi che ovviamente ci facciamo la barba questa schiuma da barba intesa un euro e 49 ma da provare colgate no col cavolo non pigli colgate tu come la van winis per i piatti svelto praticamente winis un euro solo mezzo litro non male come prezzo abbiamo vari detersivi ammorbidenti lavatrice in sapone praticamente sia un lavatrice liquido detersivo lavatrice di tutto per lana del suo lavatrice liquido dash e vari prezzi sono più o meno questi ecco qua devo dire vedrà il super mocio bileda ragazzo che ha pensato un pochettino super mocio bileda va bene signori eccoli qua ma ci sono anche altre offerte pensate un pochettino tra cui il budino della valsoia solo nero e 15 a budino molto buono devo dire la verità fatto con soli elementi vegetali poi abbiamo praticamente pensate un pochettino perché filo io mai preso latte un euro e 69 senza lattosio ma ci sono i bomboloni bomboloni ci sono ma li devi prendere nel reparto praticamente dei freschi dei dolci freschi praticamente eccola qua questo è un ottimo prezzo questo è un ottima mozzarella la mia preferita perché una mozzarella poco poco a parte che veramente poco salata e poco grassa fa poca acqua e quindi quando fate la pizza rilascia pochissima acqua ottima ottima questa burrata di bufala invece vi consiglio di mangiarla con una caprese vedete il prezzo è molto molto differente quindi c'erano e 12 contro il 9 30 però effettivamente tra la brimi e l'altra mozzarella che era mi sembra che era la granarola adesso non ricordo quale comprate quell'altra che costava di meno il gorgonzola qui invece già tagliato e confezionato e di nuovo il 96 quindi meno del gorgonzola fresco però visto che il prezzo è poco di differenza vi consiglio sicuramente il gorgonzola fresco questo comunque un ottimo prezzo di po meno di 10 euro al chilo questo è veramente ottimo come prezzo qui ci sono gli affettati praticamente fatti così questo zanetti parmigiano reggiano della zanetti è ottimo 16 euro e 90 al chilo e praticamente è praticamente il prezzo no aspettate 16 euro e 90 800 grammi quindi quasi un chilo di formaggio parmigiano reggiano unico problema ovviamente che poi dopo c'è la scorza da togliere quindi le quella la buttate molte persone la recuperano facendo una fonduta però quella scorza non è edibile io non ve lo consiglio devo dire la verità ecco qua questa fonduta della tigre con questi formaggi li potete fare anche a casa praticamente prendete pezzi di formaggio soprattutto varie tipologie di formaggio potete anche tendenzialmente fanno una bella cosa prendere la confezione vedere quali formaggi hanno messo ve li comprate ve la fate praticamente a casa le molle sottilette costano meno del gorgonzola sicuramente però devo dire la verità prevedico mettere un buon gorgonzola sopra che oltretutto non contiene lattosio il gorgonzola e devo dirvi la verità quindi andate anche chi non è intollerante al zucchi è intollerante allo zucchero del latte può mangiare il gorgonzola lungo il problema è che la gorgonzola contiene le muffe quindi per chi ha un sistema immunitario basso non è consigliato e infatti quando fu ci fu il problema del covid fu anche detto che chi mangiava formaggi evitasse sicuramente il gorgonzola quindi quindi parmareggio dopo snack parmareggio ovviamente ti vende i formaggi anche come forma di snack ci sono questi mini burger praticamente vegani non li consiglio cioè me li faccio da solo e ovviamente in offerta questo stinco di prosciutto è buonissimo devo dire la verità però secondo me per il per quello che andate a comprare quindi anche l'ossicino non lo consiglio ecco qua quando li trovate tipo a tre euro quattro euro conviene forse prendere giusto per una questione di spizio in realtà mangerete abbastanza poco quindi c'è l'osso c'è alcune parti grasse che comunque vanno buttate quindi non mini burger buonissimi questi mini burger li compri tu praticamente i salami sono tutti con nomi bannabili e i salamini sono i negronetti i negronetti della negroni incredibili assurdo e nagroni ovviamente la casa che fa il salame 20 euro 87 al chilo alla faccia del salsicotto si vuole dire non costano poco vabbè 20 euro e 87 al chilo sarebbe due euro e qua passa a letto effettivamente e quindi la casa di la casa dei negronetti praticamente vedete qui in brussel classico 476 la maduri praticamente fatto con pollo e tacchino 3 euro e 96 quindi amadori ottimo ottima offerta questa qua questo pollo e tacchino amadori se ovviamente volete mangiare questo tipo di legume qui ovviamente avete elementi fatti vedete ragazzi taccò le ciuffette di spinaci della questa della findus 3 euro e 74 ottimo questo qua questo ottimo vediamo questo qua questi spinaci praticamente e gran risotto tocco minestrone tradizionale fish stick praticamente pin quindi non si chiama non sono avvolti da una fragante pastella due ore 79 capitano fish stick non sono più bastoncini non capito fish stick sono nuovi pratica peso più piccoli più lunghi gli sti ecco qua andiamo a vedere ecco qua per mirko papela ovviamente le pralline le pralline di gennaro e due fiori di salmone addirittura due fiori di salmone vedete un pochettino il pesce preferito a mirko papela guardate ovviamente quanto costa al chilo 37 95 al chilo e ma il prezzo del salmone ovviamente è questo ragazzi e il findus è un'ottima ottima selezione guardate anche il capitano che vi guarda in questa maniera qui abbiamo varie cremosi ovviamente vari prezzi roba surgelata ovviamente nasellini nasellino un chilo 4 e 79 6 e 79 ottimo prezzo è un chilo pensate un pochettino di fiore di naselli di nasellini in realtà non è fiore di nasello panapesca un ottimo ottimo ovviamente un'ottima marca bocconcini di pollo della frosta 7 e 76 da provare forse fino a se auremento scorta ma sicuramente simpatici cordon blei vegani della valsoia pensate un pochettino quindi for che cos'è che c'è dentro praticamente come fai al 100 per cento vegetale qui c'è del prosciutto ragazzi non lo sono mai provati chissà che ci hanno messo dentro vegetale quindi questo questo è un formaggio di soia questo qua bocchi sa che cos'è sta cosa rosa la carne non lo so che cosa ce l'avranno fatta con i vegetali non lo so novità ragazzi 3 euro e 6 però il prezzo ovviamente molto alto 15 e 41 non lo so e qua sembra quasi che per mangiare più sano dobbiamo spendere di più in realtà dovrebbe essere il contrario con le birbe amadori buono il prezzo devo dire la vita e tal pizza l'avevamo già vista mi sembra prima 2 euro e 59 altri gelatini il croccante che è un gelato sicuramente di alto livello qui abbiamo vari filetti carne in scatola meglio evitare sicuramente la carne in scatola e qualcosa ne pensi della marsoia fa ottimi prodotti mi sembra ottimi ottimi prodotti gelato vassoia si è molto molto la vassoia si è molto diciamo espansa nel mercato alimentare devo dire avete a molte volte nel passato veniva vista in una maniera molto diciamo schizzinosa di realità la vassoia la cosa per le persone un pochettino strane quelle persone un pochettino invece se fortemente imposta sul mercato ottimi gelati che a volte costano anche di meno contro il colesterolo si 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 ha preso un'ottima direzione si ottima direzione anche grazie al veganissimo quindi sicuramente il fatturato e schizzato i gelati al vassoio sono buonissimi sono buoni sono tutti i vegetali buoni se effettivamente la differenza si vede proprio con la pelle come ti senti dopo non ti senti sovraccarico con un gelato normale devo diretti la verità anche le colotte sono al top prendo le prendo spesso e fai bene fai bene qui però abbiamo della pasta integrale molisana purtroppo io quello che noto è che la pasta integrale spesso costa di più di quella bianca in realtà la decortificazione dovrebbe essere un'azione aggiuntiva il problema è lo smercio nel senso che si vende meno pasta integrale e maggiore bianca e quindi ovviamente il prezzo scende quando ovviamente diciamo c'è un eccesso di produzione esatto esatto infatti un pochettino 2 euro e 50 al chilo non è poco 1 euro e 25 un pacco di pasta non è poco certo la molisana sicuramente è un'ottima marca grano italiano spesso tra filata al bronzo a piedi vedete macinatura a pietra sì ok perfetto tutto quello che volete voi però 2 euro e 50 al chilo non è poco più del doppio di un chilo in genere di pasta dovrebbe essere differente ma perché lo smercio praticamente vedi lo smercio qui ci sono delle paste praticamente all'uovo il riso scotti arborio 2 99 c'è l'altro riso in offerta via del carnaroli anche se scotti è un ottimo riso deve 5 cera di barilla non mi piace una mescolanza di cereali quindi aceto balsamico di modena compratelo ottimo il prezzo ottimo il prezzo ne basta veramente poco l'olio di semi di arachidi un litro 339 via dell'extravergine a questo punto di vari toni che avevamo visti visti prima però in confezioni più piccole ed eccoli qua praticamente spezzatino di vitello ovviamente della montana non mangio ovviamente queste cose ancora di più sei scatolate roba scatolata questo qua questa salsa deve lì il prezzo è buono 1 e 35 ass al 7 anche se a volte pagavo il ketchup un euro anche della di altre marche quale ci sono altre piadine in offerte varie patatine stuzzichini qui sgranocchi praticamente ragazzi aumentato tutto è aumentato tutto pigliate solo le offerte questo cioccolato al chilo 7 e 38 e miglia ottimo per fare i dolci lo fondete praticamente non andate andate a fare i vari dolcetti ritter sport 1 euro e 0 5 più o meno questo è rimasto uguale 100 grammi di ritter sport 100 grammi praticamente 1 euro e 0 5 questo è un buon prezzo veramente un prezzo ottimo la tavoletta di cioccolato al 100 grammi costa più o meno un euro quindi un euro e 0 5 buono io prima la lì e la lì e lì per al aveva le offerte fino a questa settimana oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno le tavolette di cioccolato o nero della lint ottimo ottimo devo dire la verità e ovviamente sta salendo un po tutto qui abbiamo abbiamo praticamente guardate lint questo è ottimo prezzo la latte nocciole questo un cioccolato della lint vedete la tavoletta della ritter sport 10 euro e 50 al chilo e mentre invece il cioccolato qui della lint lasciate stare i grammi che sono 300 e quindi 349 11 e 64 ottimo ottimo prezzo questo è un tavolottone praticamente fantastico però dovete avere la scheda quindi fatevi la scheda va per lint 26 e 60 un po troppo puoi vincere ogni giorno vediamo un pochettino i prezzi delle tavolette per la tenere 69 prova la novità 1 euro e 70 questi cioccolati particolari va bene alla lint ovviamente vive così pistacchio perugina croccante 12 85 sinceramente mi prenderei proprio una tavoletta latte nocciole cioccolato a latte il più grasso forse di cioccolati e ovviamente con le nocciole aumentano i grassi però ovviamente ci sono anche polinsaturi e monoinsaturi sicuramente buoni delle nocciole però questa è una bomba di calorie non so quante calorie dovrebbe avere questa cosa qua non lo so nemmeno immaginare dietro ecco qua ovviamente speciale cioccolato ovviamente il tempo ovviamente di atuno si arriva all'inverno qui 883 ottimissimo però ovviamente caramello e arachidi a lavorare dovete andare caro casmizzone andiamo a lavorare dopo non ti preoccupare il giocherellone andrà a lavorare più tardi ti sei perso una live veramente basata sul risparmio infatti stiamo praticamente selezionando le cose da comprare anche in vista del prossimo natale quindi facciamo la spesa adesso per poi dopo ovviamente risparmia non farla praticamente a natale quindi i mozart le palle di mozart un dolce tipico viennese se ben ricordo un cioccolatino molto particolare con una una praticamente una pasta al pistacchio con le mandorle molte molto buone ovviamente il costo è altissimo 37 42 al chilo pensate un pochettino costano tantissimo le palle di mozart immaginate quanto valeva mozart ecco qua cioccolato l'inter spalmabile ovviamente fondente un botto costa budino preparato l'inter 464 ottimo ottimo veramente buono però però il costo è molto alto l'ho provato un'altra volta andatevi a vedere lo short sui budini che ho fatto e andatevelo a vedere qui abbiamo un grande assortimento di vari cioccolati il mio provato giocherellone come roberto benigni quando parla della divina commedia una persona normale legge le offerte in due minuti noi siamo qui da un'ora e 36 a fare la spesa la prosa a tutto la prosa a tutto ma devi dire quando poi dopo andiamo a fare la spesa così la facciamo ecco qua siamo molto molto veloci le mitiche vitors e vitors ovviamente questa marca non lo so l'ipera la sta distribuendo 7 48 le palline ripiene a vari gusti questo è molto sapete dove li dovete mettere quando arrivano praticamente i vostri familiari ovviamente noi siamo la sociale quindi non arriva nessuno dentro una zuppierella ognuno si piglia la propria pallina non vedo però che stai prendendo appunti non serve prendere appunti tutto nel cervello ecco qua pensa un pochettino e qua ci sono i vari cioccoli diciamo le varie offerte qui da mettere nelle tazze 4 38 i cornflakes fantastici veramente buoni buoni non viene mai paolina paolina va sempre all'ipera la puoi incontrare se vai all'ipera al fuente se la trovi ciao mirko va bella ciao l'altra sera avete ospiti non dire bugie ma no ma mica con paolina mica stavo alla giocherelluna mica paolina giocherelluna no no da voi no ma paolina non è la giocherelluna non è la giocherelluna paolina ecco qua e quindi qui se i casarecci di leo 358 buoni questi biscotti però costano un pochettino biscotti mulio bianco 4 26 al chilo questi biscotti mulio bianco ciocco grano mai provati 6 euro e 64 al chilo prezzo alto però ovviamente c'è prezzo alto per il biscotto figuratevi figuratevi ovviamente sta pure in offerta ecco qua non da voi paolina sorella giocherelluna si sa no non è così ti stai sbagliando non è così no e se vieni se vieni conoscerai le persone capirai ovviamente i rapporti che abbiamo e quindi capirai tante tante cose questi biscotti digestivi allora questi biscotti digestivi in realtà io li ho provati allora parliamo dei macvitis in realtà erano molto molto calorici molto molto grassi parlo di questi qua normali digestivi non so perché vengano chiamati digestive devo dire la verità sono buoni senza alcuna ombra di dubbio ma digestivi è troppo burro bravissimo troppo digestivi per il burro non lo so mi sembra un po una presa per i fondelli qua dice digestivi se forse si sono inventati questo ma questo marchio questo nome per attirare li ho provati pure io ma sono buoni sono buoni anzi se li fai diventare secchi si ammorbidiscono però digestive ma digestive che me digi panza praticamente riesce il panzo e panza a tuttello e panza a me piace duro e ti piace duro e va bene non avevo dubbi miele ambrosoli 1480 il miele non deve mai mancare soprattutto adesso che arriva l'autunno appunto siamo in autunno e poi l'inverno quando avete mal di gola fate passare il miele direttamente sulle parti infiammate della gola e vedrete che potrete ovviamente altamente gli stick di pesce gli stick di pesce e quelle e ho capito ho capito quindi hai detto mi piace duro ma mi piace anche lo stick di pesce in ex qui che in realtà e non è altro che cacao con lo zucchero è un pochettino di destrosio e viene addizionato con alcuni appunto vitamine in realtà ce ne vuole veramente tantissimo per fare una bevanda al cacao quindi tendenzialmente preferisco sicuramente evitare il caffè in offerta l'avete visto qui ci sono varie capsule varie cialde va bene ragazzi sperlari anice con le con questa praticamente caramelle all'anice rossano alpino eccetera quindi come potete appunto vedere varie acque varie limonate vari succhi di frutta andiamo ovviamente avanti su questo piano ecco le birre allora questa sezione sezione questa parte della del vale anche per mirko non dire così non dice queste cose infiammate per quello piglia cipolla e finocchio ovviamente quindi per quella parte con la del tuo corpo piglia il finocchio e la però non è rossa allora vediamo le birre praticamente abbiamo una tuborg 1 euro e 50 al chilo al chilo birra tuborg questa qua birra stella artois 1,90 la ceres 4,40 alla faccia al chilo 4,40 la ceres birra artigianale blonde come sia 4,70 ancora di più vediamo la birra leff 3,97 non ma non male come prezzo però sempre alto la ceres 4,24 questa strong al 7,7 troppo alcol secondo me questo è mai visto la gradazione alcolate credo che è alto ma è alto ma che bevo l'alcol cioè non è una birra praticamente non è una birra ma la leff quant'è quant'è la gradazione alcolica della leff 6,6 gradi e strong al 7,7 ma ceres che bevo l'alcol ecco qua 6% questa di alcol peroni cruda ma preferisco la peroni normali devo dire la verità ecco qua quindi abbiamo poi dopo vari ovviamente licuori il belis che forse un licuore sicuramente simpatico 14,99 al chilo non costano poco gli alcolici questi licuori e licuori e birre ovviamente qui abbiamo altre creme da barba ovviamente per il mirko vapella che non deve chiedere mai ragazzi ovviamente assorbenti mirko vapella spesso li fa gli spazzolini da denti 3,15 ne portate 4 della colgate buono il prezzo devo dire la verità e vi durano tantissimo perfetto varie cosarielle qui sopra spuma di champagne ci interessa forse poco e niente questi a queste mitiche spugnette queste spugnette un nero e 39 pigliate queste qua della vileda vi durano veramente tantissimo pigliate sempre ti sempre queste spugnette qua per lavare i piatti lo spazio dovrebbe essere cambiato ogni mese in realtà è vabbè a me durano mesi gli spazzolini lavori dentro tutti i giorni per i cani ovviamente mirko vapella non sappiamo cosa dà al cane migliori cani preferiti vedete un pochettino vari cani vari nuggets di cani a volte mirko vapella li ha mangiate anche lui non fatelo anche ovviamente voi ovviamente vari vedi gourmet praticamente gourmet per gatto 11 88 il mitico viscas 23 16 costa più viscas pensato un pochettino che il il cibo per gli uomini usa denta stick altro che spazzo di usare denta stick master o il bar massi che ero il bambù per la tente loro il mitico il mitico spazzolino di bambù va bene signori credo che abbiamo visto tutto ovviamente ovviamente iper si si come al solito ottimo ottimo ipermercato io vado al fuentes anche se quello di rogolo praticamente quasi devo scendere farmi 5 minuti a piedi 10 minuti a piedi no è già finita è già finita si è già finita si grandi grandi offerte devo dire la verità sicuramente nei prossimi giorni farò una selezione delle cose che devo comprare anche soprattutto farò scorta di caffè un 5 38 un ottimo prezzo anche di passate di pomodoro e quindi ovviamente i freschi ci vado cauto a una cosa che ovviamente mi sono dimenticato di dirvi i broccoli ragazzi i broccoli mangiate li potete mangiare crudi li lavate li mangiate crudi ovviamente questa parte superiore quindi le florescenze il gambetto non questo qua duro e questo qua lo potete addirittura recuperare facendolo bollito anche se ci vuole molto per renderlo terno altrimenti i broccoli al vapore nell'olio extravergine d'oliva con un po di sale qualcosa è fantastico vado a portare il mio figlio all'asino buona giornata a tutti ciao gas misone buona giornata a te e quindi ragazzi questi ovviamente sono le grandi offerte va bene signori che dirvi io vi ringrazio per la visione vi auguro buona spesa se andate all'iper al del fuentes ci possiamo incontrare qualche volta ovviamente hamburger con la scottona sicuramente andremo andremo ovviamente anche a mangiare ciao un gas un bacino un bacino dove vuoi tu e per il resto direi di vedere l'eclipso e fare un recap si veramente molto molto divertente sicuramente un filmato anche dedicato potremmo dirlo proprio al mitico alessandro arcaglio che non c'è mai ecco qua vedete ragazzi le mozzarelle le mozzarelle vi consiglio sicuramente queste delle valerate perché 7 98 un ottimo prezzo ovviamente è aumentato un po tutto ed effettivamente vi consiglio come anche dice il buon alessandrino di comprare solamente quando ci sono le offerte quindi quando ci sono le offerte andate a comprare a fare scorte questa è una cosa molto un po detto esatto lo sfrutta le clip su tik tok sfrutto le clip su tik tok per farvi ridere te le vale vale vado subito a clip tettare le vado subito a scaricare tutte signori che dirvi ringrazio ovviamente mirko vape l'attivante lo faccio io no 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 figurati figurati le scarico le carico purtroppo è allo se facessi se facessi illustri il social che allora il problema è questo se facessi il content creator come lavoro allora sarete 14 ore davanti al computer o in mezza la sarà da fare questo purtroppo allora il problema questo sicuramente un lavoro affascinante però ti rende poco allora se riuscirò sicuramente avere successo o altri progetti sicuramente lavorativi che coinvolgeranno anche te mirko vapella non ti preoccupare però per il resto ovviamente appena un tempo ricarico carico quelle clip direttamente su tik tok però per il resto io ti ringrazio sempre dedichiamo però questo video di alessandrino arcaneo e la speranza che possa venire quanto prima a trovarci e per il resto più tardi o nei prossimi giorni dal 25 queste sono offerte che che valgono dal 25 quindi attenzione quindi da domani da domani valgono queste offerte fino a 7 novembre quindi ovviamente da domani credo inizierò a programmare una mia andata all'iperal credo al fuentes dove c'è una maggiore scelta perché veramente gigante per comprare quello che mi serve da domani capito bene quindi le birre le puoi comprare da domani poi non so se dalle tue parti c'è l'iperal fra poco ovviamente dovrebbe piano piano ovviamente l'azienda iniziare a scendere anche verso il centro italia addirittura forse il sud speriamo che le offerte sono veramente molto buone io per esempio a napoli non pagavo le cose così poco va bene ragazzi che dirvi vi saluto spero che il video vi sia stato il vostro gradimento se amate questo format iscrivetevi donate abbonatevi partecipate iscrivetevi anche ovviamente al canale di mirko papella commentate mettete mi piace condividete il video vi aspetto ovviamente sul mio canale sui miei social network youtube e twitch sono i principali gli altri ritrovate nel box informazioni certo che lo amiamo ma impegnativo da seguire impegnati o da seguire ma soprattutto si ride i teneroni che ricordi teneroni per ricordi teneroni quelli che ti piacevano a te teneroni praticamente per chi ti ama si beve anche la tua urina ebbe dovrebbe dire chi ti ama ti segue sempre sicuramente va bene ragazzi vi lascio con questa grande immagine del mio praticamente formaggio preferito ovviamente anzi andiamo io preferisco fare un'alimentazione vegana ma quando si tratta di gorgonzola purtroppo torno a essere vegetariano signori grazie mille per la visione e ci vediamo praticamente vi lascio con i vegetali in prima in prima in prima linea ci vediamo tra qualche minuto con un altro incredibile video quindi ovviamente a dopo a dopo caro mirko paella gran grazie delle tante risate e dedichiamo questo video ad alessandrino che ama fare la spesa come noi è sempre pronto ovviamente a risparmiare comprare prodotti di qualità ciao grazie a te figure se vengono vengono da vengono da sé ma grazie a te per le grandi grandi compagnia grande risate auguro tutto il bene possibile andate ovviamente ragazzi intanto sul canale di mirko paella perché mi fa ridere vi fa divertire e vi mette anche le frasette un po piccanti l va bene ciao a tutti e tutti ciao caro mirko ciao casmizzone ciao carnazzone